Buongiorno, ho appena completato l'iter per l'insediamento quale commissario straordinario al Comune di Catania. Ovviamente in questo momento sono preponderanti le cerimonie per la festa della Santa Patrona Sant'Agata, per cui con i vari dirigenti, con il Segretario Comunale e con i vari staff aspetto di avere un momento più di tranquillità per affrontare e capire e vedere come risolvere i problemi della città, che non sono pochi, sperando soprattutto nella collaborazione di tutti i funzionari e dei cittadini, perché noi facciamo parte di una collettività, di una società e siamo tutti chiamati a risolvere i problemi comuni. I primi sono le amministrazioni comunali e i cittadini sono subito dopo. Grazie. 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 Grazie.